Vai. Sono Roberta, ho 38 anni. Sono stata assunta con un contratto a tempo indeterminato in una grande azienda di contact center. Assunta a tempo indeterminato, sì, ma è un contratto precario, instabile. Perché? Perché è legato alla gara di appalti, al gioco economico della gara di appalti. È un settore, tutt'oggi, privo di regole certe per i lavoratori. Noi lavoratori di contact center siamo legati a un mero meccanismo di ricatto occupazionale. Cosa richiediamo al governo? Cosa stiamo gridando al governo da sempre? Grighiamo, rivendichiamo il fatto che recepisca una direttiva europea che estende le stesse tutele e garanzie di altri settori lavorativi anche nel nostro settore. Gridiamo e rivendichiamo da grande tempo cosa? La clausola di salvaguardia, che è l'unico strumento che può dare stabilità nel mio mondo, nel mio settore e nella mia vita. Io ci sono e tu? Io ci sono e tu? Io ci sono e tu? Io ci sono e tu?